«Sono guarito dal Covid ed è la terza volta che dono il plasma iperimmune, ma soprattutto sono un ristoratore ed è per questo che le scrivo, voglio parlare dello schifo che stiamo vivendo». Inizia così la lettera che Cristian Marinelli, 46 anni di Fano, ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo aver appreso via social che le Marche sarebbero entrate in zona arancione, ha deciso comunque di tenere aperto il ristorante La Quercia, Sant'Andrea in Villis. Risultato, multa di 400 euro e sospensione della licenza per 5 giorni. Ma il problema per Marinelli non è la sanzione, bensì quello che ha definito un governo di incapaci. In un paese, chiamiamolo normale, sapere alle venerdì sera a 18.30 tramite Facebook che i locali devono rimanere chiusi, sinceramente abbiamo superato tutti i limiti, non è concepibile. Quindi ho deciso di tenere aperto e speravo che qualcuno venisse per vedere, per fare la multa, perché io non ne posso più. Mi sento veramente preso in giro e basta. Da cittadino e da persona equilibrata, prosegue Cristian nella lettera, non posso accettare che un ministro di un governo, tra l'altro non eletto, decida che io e i miei colleghi dobbiamo buttare le merci acquistate, avvisare la clientela del disservizio perché un algoritmo ha cambiato colore alla nostra regione. A parte gli acquisti, ma avevamo una comunione che già sono state rimandate a maggio perché va bene a maggio. Cosa chiamo? A questo bambino di 9 anni che tra l'altro gli devo dire non venire perché abbiamo cambiato colore? No dai, preferisco pagargli la multa a tutti e fargli venire e fargli passare la giornata. Quanti erano i commensali? Ma a totali sono state 30 persone, 35 persone, non è che ce n'erano tanti purtroppo, se ce n'erano di più era più contento ovvio, però ecco, assurdo, io non ho più parole. Mi aspetto, prosegue il ristoratore, che tutte le forze dell'ordine tutelino noi che siamo il motore dell'Italia, in prima linea per dare lavoro, noi che trascuriamo le famiglie pur di lottare e andare avanti, mantenere gli impegni presi e onorare le scadenze. Mi hanno insegnato, si legge ancora nello scritto, ad essere sempre sincero, educato, rispettoso, ma soprattutto a mantenere la parola data. Per questo Marinelli ha ribadito che pagherà tutte le multe che riceveranno i suoi clienti. Da quello che so io, quelli che erano fuori comune sono stati multati, però ho già detto ai miei clienti quando gli arriva la multa me la devono portare, che gliela pagherò io, perché ci mancherebbe, cioè la responsabilità è mia, sono io. Loro mi hanno detto, ma tu stai aperto? E ho detto, sì, io sto aperto. Quindi loro vengono e la multa gliela pago io, non c'è problema. Anche perché, diciamo, il comune qui vicino è a un chilometro ed erano qui di Novilara, quindi fa ridere, fa tutto ridere. Lo sfogo di Cristian si è poi concluso con un appello lanciato per iscritto al Presidente della Repubblica, al quale ha chiesto di liberare Roma dai criminali che ci governano. Quando io guardo, scusa mi giro, quella foto lì, no, che è la famiglia, che ci hanno insegnato dei valori, il rispetto, l'educazione, mantenere le parole, mantenere le promesse. Poi mio nonno, ho scritto che lui ha fatto la guerra, è tornato da una guerra, ci ha salvato dal fascismo. E adesso la storia sta cambiando, cioè i militari cosa racconteranno ai propri nipoti fra un po'? Che stanno liberando l'Italia dagli italiani, perché questo sta cittadendo. Ci stanno uccidendo, ci vogliono far sparire e io non la posso accettare. Tutto qua.